Salve a tutti ragazzi, oggi in questo video recensirò la gang del bosco, copertina molto bella, qua dentro c'è il cd, poi una parte la dedico a dei paperini con i miei chum figure di topolino e paperino. Ecco, questo, 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 topolino e questo. Vabbè, non c'è, sì, qui rigidei il retro, compratevelo che è un film molto bello. Va bene, questa era la gang del bosco, nel prossimo video in poi riprenderò i pelusso di Winniepoo che ho preso al McDonald's. Va bene, al prossimo video.